La Versilia si organizza per coordinare l'accoglienza dei profughi di Ucraina. Mentre i numeri degli arrivi crescono di giorno in giorno, 26 ad oggi solo a Viareggio, si fanno più chiare le linee guida da seguire in accordo con la prefettura. In sala di rappresentanza, l'amministrazione Viareggina, insieme alla ASD e all'ufficio sociale, ha convocato circa 20 associazioni di volontariato, che hanno già preso in carico diversi casi. Viareggio del resto ospita la maggiore comunità ucraina della provincia, 275 persone, di cui 230 donne, per lo più badanti o collaboratrici domestiche. Per accogliere i minori non accompagnati arriverà un avviso pubblico per candidarsi attraverso il sito del comune, coordinatore per tutta la Versilia. Per le madri con bambini verrà messa a punto una manifestazione di interesse con fondi stanziati per chi gestisce l'accoglienza. Viareggio è una città accogliente, lo è sempre stata, e noi vogliamo costruire insieme all'associazione un modello operativo che sia di accoglienza e di gestione, e poi anche di questi flussi che ci sono, insieme alla prefettura stiamo lavorando, e le associazioni mi sembra che siano veramente interessate a dare una mano a tutto questo processo che si sta sviluppando questi giorni. Sul fronte sanitario i rifugiati saranno sottoposti a tampone anti-covid a Villa Perga, mentre al lab del Terminetto riceveranno l'assistenza sanitaria e le vaccinazioni, contro il coronavirus e non soltanto, tutto per organizzare una permanenza che non sappiamo quanto durerà, ma che non si prevede breve. Avremo a disposizione diverse decine di migliaia di euro del Comune che l'è messa a disposizione apposta per questo progetto e quindi questo andrà al di là dei finanziamenti ministeriali. Purtroppo non sappiamo né il numero né il tempo, ma noi siamo pronti, Viareggio è accogliente e accoglierà tutti coloro che vorranno venire.